Oh, questa mattina dovevo fare 5 salti in chirurgia, ergo mi sono dovuto tagliare la barba, quindi no giudizi sulla barba, focalizziamoci su quello che è l'argomento del video di oggi, perché settimana scorsa avevo promesso che avrei portato, questa settimana, ed eccoci quindi con il video di oggi, delle dichiarazioni super succose di Oda, che va, diciamo, dato nel corso degli anni, dove di fatto dellizzava Delly Mellov, diciamola così, si dice così, no? Nei lead di YouTube Italia per quanto riguarda il macro mondo di One Piece, quindi insomma perché ci incischiare come esattamente il video di settimana scorso, io vi leggerò queste due dichiarazioni e poi, come esattamente l'altra volta, andremo poi a farci un pochino di chiacchiere, di riflessioni, molte, moltissime risate in tal senso, perché dai, come è possibile che mi metto a leggere le dichiarazioni di Oda per cose e incappo in roba su Zorcio, questa cosa è troppo divertente, mi ha fatto male, ma mi ha fatto molto ridere, quindi dai, non voglio perdere altro tempo. Nessuno deve parlare male di Zoro, e già questa dichiarazione a me ha ucciso dalle risate, perché che vuol dire non parlare male di Zoro? Cioè, da un contesto, no? Cosa è che ha spinto l'autore a implorare il proprio pubblico di non parlare male di Zoro? Chi stava facendo Zoro in quel frangente? Ora, visto che eravamo a dicembre del 2011, indicativamente, in Giappone, era uscito già il volume 64, e a livello di capitoli settimanali, indicativamente, perché, anche mi sono fatto proprio i conti precisi, precisi, ma, metà del volume 65, indicativamente, settimana più, settimana meno. Quindi, cioè, eravamo in piena Fishman Island, non i combattimenti, ormai c'era stata già la scena superfica dell'Achidere Conquistatore, e l'unica roba che mi viene in mente, no? Che Zoro potesse aver fatto di sbagliato, era dire a Rufy, eh, non avesse steso almeno la metà degli Omini Pesce, e, chiaramente, non sarei più un membro della Saciur, ma, a parte sta fesseria che, cioè, era per ai pare, oltre al fatto che, wink, wink, Zoro possederà che era Conquistatore palese, quindi non può essere sottoposto di uno che non lo possiede a sua volta, non ho capito cosa volesse dire Oda, però faceva molto, molto, molto ridere. E qui, chiaramente, Delli potrebbe dire, dalla sua superelevazione culturale di conoscenza, interpretazione di quelli che sono le onde cerebrali di Oda, perché noi sappiamo che sono sempre in contatto, diciamo, quasi una sorta di simbionti tra di loro, no? Cioè, uno influenza l'altro e viceversa. Da lì, Delli potrebbe dire, ah, ecco, perché c'è non solo l'unico che parla male di Zoro, invece, cioè, è un fatto noto, a parte voi che siete, insomma, i soliti cagnazzi, sfogliatori, eccetera, eccetera. Ma no, perché non mi fermerò a queste dichiarazioni, vado molto avanti con le cose perché c'è un'altra che, cioè, fa arrivare al nirvana delle... Capirete, appena ve la leggo. Non mi piace quando la gente parla male di personaggi di One Piece. Per esempio, quando sento dire, questo cattivo è troppo debole, non posso fare a meno di pensare che lo renderò più forte. Ora, ah, non ce l'ha fatto, rido da solo. Ho una primissima lettura. Questa cosa può voler dire tutto e può voler dire niente, ma, cioè, mettiamo da parte un secondo il fatto che Shanks è il vero villain dell'opera e quindi il personaggio più potente di sempre, ma non importa. Cioè, con tutte le volte che Delli ha fatto, diciamo, delle sue analisi, asserendo al fatto che effettivamente Zoro è un po' villain all'interno dell'opera per ragioni, e viva la morte dell'autore sempre e comunque. Tecnicamente, visto che dal 2013, se non vado a rato, che Delli ha il canale, quindi sono otto anni, che indicativamente porta avanti la bandiera di Zoro che è scarso, Zoro super pippa, Zoro piestrellista, che credo l'abbia nominato in quel di Wano Kuni, tecnicamente Delli ha reso Zoro infinitamente potente. E questa cosa è bellissima su un sacco di livelli di lettura. Cioè, non credete anche voi, perché a me ha ucciso quando ho letto queste due dichiarazioni, perché, dai, è troppo divertente. Cioè, di che stiamo a parlare? Piuttosto, piuttosto, come mi sono ripromesso, io lancio apertamente una sfida al grandissimo Delli Mello, se vuole venire in live da me, venerdì sera, facciamo la live a tema One Piece, se vuole venire a provare a, insomma, dichiarare, o discolparsi, o rienterpretare, ed analizzare queste dichiarazioni, sul perché eventualmente lui abbia reso Zoro il personaggio più forte dell'intera serie. Chiaramente, perché, ricordiamolo, cioè, più prendi in giro un personaggio, soprattutto Zoro, che non deve essere preso in giro secondo l'autore, più lo stai rendendo potente, perché l'autore poi lo renderà più potente. Chiaramente imbarba la morte dell'autore che, cioè, Delli utilizza come motore, come combustibile, per quelle che siano gli animi, no, che devono infiammarsi delle persone che lo seguono, ma, purtroppo, cioè, ha malinterpretato quella che è la morte dell'autore. E potremmo parlare anche di questo, poi, eventualmente, venerdì sera in live. Quindi, Delli, hai tu il coraggio di venire ospite da me? Per essere... Dellizzato a tua volta? Perché roninizzato mi fa molto schifo come termine. Piuttosto, se vedi un termine sostitutivo interessante, spazio e commenti come sempre. Quindi, dai, io ho detto anche troppe stronzate, quindi, fatti bravi come sempre, mangiate le verdure. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale, che dovrebbe essere venerdì pomeriggio. Ci vediamo poi venerdì in live. La farò anche se, eventualmente, Delli non volesse presentarsi, perché, chiaramente, cioè, potrebbe avere, visto che vi chiama cagnaccio, potrebbe avere la coda tra le gambe, come i cani pollo fifo, essenzialmente cani pollo fifo. Che bravo che sono. E basta. Hashtag ironia a questo giro. Voglio l'hashtag ironia. Quindi, dai, fate bravi.